Torna a Bari Smart Building Levante, la fiera internazionale sulla innovazione tecnologica, l'appuntamento il 14 maggio, la fiera del Levante. Innovazione tecnologica nel Mediterraneo, torna a Bari con Smart Building Levante, quali saranno le novità? Allora le novità anzitutto sono il grande successo della manifestazione che conta già oggi il raddoppio delle aziende presenti, quindi siamo a 160 aziende tra le maggiori imprese del settore, quindi una fiera estremamente rappresentativa di un settore molto innovativo. L'altro aspetto è una continuità di quella che è la filosofia di questa manifestazione, che non è soltanto un evento di natura commerciale, come è qualsiasi fiera, ma è anche un importante evento di natura culturale, cioè cultura di prodotto, cultura dell'innovazione, grazie ad una collaborazione sempre più stretta con realtà come il Politecnico di Bari, come gli ordini professionali, che hanno collaborato strettamente a creare questo evento che a tutti gli effetti è un evento collettivo. Ecco, grande attenzione ai temi dell'innovazione in ambiti che sono centrali per costruire città più sostenibili come Bari. Beh, certamente, direi che non potremmo essere in una situazione migliore per parlare di temi che sono oggi all'ordine del giorno di tutte le città, non soltanto di Bari, ma chiaramente anche di Bari, che sono quelle dell'efficientamento energetico, del risparmio energetico, del cambiamento dell'utilizzo delle fonti verso le fonti rinnovabili. Questi sono i grandi temi che affronteremo, oltre a tutto quello che comunque l'innovazione in ambito home e building automation comporta in termini di comfort abitativo, di cambiamento del modo di utilizzare i nostri edifici e le nostre città.